Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special, è stato esonerato Pioli, l'allenatore dell'Inter e vi dirò quali secondo me sono stati le cose che hanno portato a questo esonero e cosa ne penso personalmente Allora, devo dire che non mi è piaciuto questa decisione, pur non essendo un tifoso dell'Inter però devo dire che a me a giudizio è un po' inutile perché con tre giornate ormai alla fine è una prestazione dell'Inter durante questa stagione un po' alternata infatti ci sono stati dei mesi in cui la gestione dei Pioli aveva portato ottimi risultati e poi invece dopo il 7-1 con l'Atalanta fino ad ora delle prestazioni a quanto orrende questo mio giudizio significa che non è proprio responsabilità di Pioli se la squadra sta andando così ma molta responsabilità ce l'hanno i giocatori ecco, forse direi che potevano comunque far finire ormai la stagione a Pioli e poi a giugno decidere cosa fare, se scegliere un allenatore diciamo all'estero cambiare appunto gestione del loro staff, anche delle dirigenti magari e quindi cacciarlo ormai a giugno e invece hanno deciso di farlo adesso e secondo me la motivazione è per dare l'unica appunto cosa positiva che trovo in questa decisione è appunto la voglia di dare una scossa alla squadra un segnale ai giocatori in modo tale da far capire che come se dicessero guardate stiamo cacciando l'allenatore che aveva pochissima responsabilità quindi uscite un po' ecco i maroni in modo tale da non rischiare queste state altrimenti cacciamo pure voi anche se accadrà lo stesso perché molti ovviamente non sono forse da grande squadra ecco quindi ditemi appunto cosa ne pensate, secondo me hanno fatto un po' male perché appunto potevano ormai completare la stagione con Pioli e poi decidere a giugno però ovviamente potrebbe essere un segnale appunto per dare una scossa alla squadra e provare in queste tre giornate a diciamo non fare più queste brutte figure delle ultime giornate ditemi appunto cosa ne pensate qui nei commenti lasciate un like se la pensate come me e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti un saluto da Carmi Special, alla prossima, ciao!